Poi noi adesso dobbiamo parlare tra di noi, di Musica Verità, fatta tutta questa parte noi ci dobbiamo chiudere tra di noi e dobbiamo capire come facciamo i passaggi nostri quelli in cui non ci resta niente, il Comune e la Regione in cui l'Officine Zero decide come diventa grande, come fa questo passo in più, però insomma è più di quello che ci aspettavamo Grazie